ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare di mannosio forte gezi alt cari i pali ultimo aggiornamento 12 maggio 2020 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso ingredienti data di emissione in commercio immagine prodotto a cosa serve di mannosio forte è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato urogenitale è commercializzato in italia dall'azienda gezi alt cari i pali informazioni commerciali titolare gezi alt cari i pali concessionario gezi alt cari i pali categoria di appartenenza integratori per il benessere dell'apparato urogenitale forma farmaceutica capsula confezioni di mannosio forte 50 capsule vegetali 35,5 g indicazioni utile per il benessere dell'apparato urogenitale modalità d'uso 2 a 5 capsule al giorno ingredienti di mannosio 600 mg per capsula fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato